14-16 settembre, il salto ostacolo internazionale a Bagnaia. Per tutti gli appassionati un appuntamento imperdibile. Torna il concorso ipico internazionale pluristellato di Bagnaia. Sui terreni di Murlo, un evento che parla di sport e della migliore equitazione. Per un appuntamento al quale hanno già aderito tutti i più bei nomi del jumping italiano e straniero. Tre giorni dedicati alla più appassionante delle discipline equestri. in un contesto senza pari. Sport, tecnica, intrattenimento, stile, Bagnaia Jumping vi aspetta con le gare, con gli stand commerciali e la passione per il cavallo. Con il suo magnifico campo in erba, Bagnaia Jumping è l'evento a cui non bisogna mancare. Accanto al monte premi in denaro e ai ricchissimi premi per i concorrenti, tra i quali anche una vettura, torna anche il super concorso di Bagnaia Jumping per il pubblico, con straordinari premi alla portata di tutti. Partecipare è facile, compila il tagliando che troverai su QN la nazione, in bucalo presso il villaggio commerciale a Bagnaia Jumping, a Murlo, soli 12 chilometri da Siena. Estrazione finale, domenica 16 settembre. All'ombra del grande salto ostacolo internazionale del Bagnaia Jumping, tanto divertimento per tutti, dal battesimo della sella agli stand enogastronomici. Non perdere l'appuntamento con la fortuna e con il grande sport. Vieni a Bagnaia Jumping, ti aspettiamo!